Saluto e do il benvenuto a Sergio Campiarino, già sindaco di Torino del Partito Democratico. E do il benvenuto ad Eugenio Benetazzo, esperto di economia e di finanza. Esperto, io dico, spericolato nelle tue tesi, anche perché tu già due anni fa in alcuni libri avevi capito, avevi messo nero su bianco, quindi lo possiamo dire, avevi messo nero su bianco quello che sarebbe accaduto. Era così facile prevederlo oppure era difficile per gli altri professoroni? L'analisi macroeconomica che è stata fatta a suo tempo, circa l'andamento che avrebbero avuto le principali variabili economiche non solo in Italia ma anche in Europa, dava indicazioni di una precisa via, non solo per quanto riguarda il nostro paese ma anche per tutta l'economia occidentale, nello specifico a fronte di un cambiamento di scenario che definirei quasi epocale per l'immersione di paesi e di economie che fino a 15-20 anni fa nessuno considerava sui libri accademici e purtroppo il deterioramento dal punto di vista del potenziale produttivo ed economico delle economie trainanti il pianeta, ci troviamo a vivere uno scontro epocale che porta alla ribalta uno scenario che per adesso pochissimi sono ancora in grado di quantificare. C'è un declassamento anche della Francia, siamo tutti messi mali e quindi il vecchio continente è ormai un continente decrepito, quello dell'Europa? Non è tanto un continente decrepito, è un continente che si trova, non tanto il continente ma le macroeconomie occidentali sono viste purtroppo in ricontenimento economico per variabili che in questo momento qua noi purtroppo subiamo, immaginiamo due silos affiancati uno si sta svuotando e un altro che era vuoto si sta lentamente riempiendo Quello che purtroppo, e con l'occasione saluto anche i conterrani di Padova di cui Alfredo Bellucco ha avuto occasione anche in altri contesti di conoscere non riescono ancora a percepire quello che sta accadendo è ahimè la cosiddetta giapponesizzazione dell'economia soprattutto in Italia e in Europa vale a dire una crescita molto modesta contenuta dell'economia per i prossimi anni a fronte di un debito ingente sapientemente controllato che purtroppo limita Poi ci aggiungiamo che, come dicevo prima, questi lavorano e la pubblica amministrazione non paga perché c'è il patto di stabilità e tutto crolla però entriamo dentro la carne viva di questa impresa che era il modello economico, il famoso miracolo del nord-est era la locomotiva Grazie a tutti!